Buongiorno ragazzi, allora oggi ho preparato l'apple pie, vi basterà una planetaria, mettete tutti gli ingredienti insieme e impasterete. Poi una volta che l'impasto sarà bello elastico, lo metterete in frigo avvolto nella pellicola, perché mettiamo l'aceto nella frolla. Questo permette di sviluppare il glutine all'interno del dolce e rendere l'impasto molto molto più elastico. Vado a tagliare le mele. Allora, tagliamo un limone. Io prendo sempre quelli con le bucce edibili, in modo che se mi ci vuole la buccia, le posso usare tranquillamente. Spremo. E verso sulla mia mele. E le uova qui non ci sono. Quindi è perfetto questo dolce, anche perché è intollerante alle uova. Allora, ora lo vado a stendere. Facciamo metà. Stendo. Allora, ingurriamo la nostra teglia. Allora, ingurriamo la nostra teglia. Poi versiamo lo zucchero. Siate generosi con la cannella. E poi io ci diverso un po' di zucchero. Che vi farà quell'effetto caramelloso che mi piace tanto. In modo che fuoriesca l'aria. Un pochino di annella. Un pochino di annella. Un pochino di aneh.